ragazzi video di servizio per gli amici di zello e per chi io voglio vedere di com'è la bicicletta per il test di oggi allora innanzitutto i raggi li abbiamo visti su tutti quanti coi catari frangenti di giorno non è che serve tanto l'aggiunta della scritta facebook mille accendini qua sopra il braccetto con la telecamerina la telecamerina è già in azione sta facendo un time lapse sta facendo una foto al secondo forse la si vede e già ne ha fatte 220 foto una foto al secondo e la stessa cosa sta facendo la foto sopra solo che questo qua sopra al momento è sotto carica e quindi potrebbe stare acceso anche un sacco di ore perché la memoria 32 giga questi invece il buco che gli ho fatto per tenerlo sempre sotto carica invece ancora non è abbastanza grande deve allargare un altro po' per oggi non c'ho voglia di continuare cioè non c'è neanche tempo qui dentro solle batterie tampone una batteria tampone col filo è attaccata ed è attaccata a questa che la cassa audio vedete questo è zello allora sto facendo il video in diretta a questo momento allora questa è la cassa audio e mi stanno sentendo anche gli amici di zello se anche voi volete sentire visto che lo caricherò subito il video lo trovate il canale dove parliamo è uno vale uno quindi adesso ho smesso di parlare quindi uno vale uno allora loro non hanno sentito loro stanno collegata no non hanno sentito il resto non hanno sentito il resto del video va bene vedete che hanno risposto che è caduto milla cendini vedi no no interrotto apposta per fa sì che voi riuscivate a parlare e così la gente sente capisce come funziona zello è anzi fragole di qualcosa di qualcosa e così almeno capiscono funzionamento qui dentro c'è una cassa bluetooth quindi io sento in viva voce anche se sto in bicicletta e loro mi sentono dal microfono poi c'è qui lo spazio per il telefono e qui la lo spinotto dove c'ho qui c'ho lo spinotto per il viva voce poi c'è il campanello se c'ho gente vicina qui c'ho il clacson qui c'ho il clacson 10 persone collegate queste sono le borse brandizzate la scritta youtube qua la scritta la scritta mille accendini perfetto perfetto allora poi le bandierine che l'avete viste le bandierine brandizzate così allora io credo che la bici abbastanza dica manca un'unica cosa che ho comprata su amazon un timer in maniera tale che questo timelapse ruotano in questo modo cioè faranno la telecamera non sarà fissa ma durante il viaggio ruoterà quindi crederemo un movimento va bene se il video è interessato anche a voi che non state ancora su zello mettete anche voi un pollice in su